Io non ci voglio credere, sono allibito, sì. Ma come fati, ma c'è? E' Luca, lui è Diego Bianchi, Luca, ciao, piacere. Avrei potuto conoscere in un altro momento. Tu sei lichissimo. Sì, sì, la macchina ce la ridanno. Ma secondo te io sono scemo che parcheggio la macchina a culino. Che devo tornare a Roma, dove non posso parcheggiare. Ma ti giuro, io sono allibito, guardavo lei e fa ma questa è la mia macchina. E' la verità e fino adesso abbiamo detto ma questi coigioni che hanno parcheggiato, è la verità. E' la verità, è il modo, è il modo. E' una storia a lieto fine. Alla fine Pierfrancesco è riuscito ad andare in tempo al deposito e siamo tornati da Roma. Ma c'è stato anche questo momento con la grande sincerità di lei che dice fino a qua, fino a un minuto fa mi hanno detto ma chi è questo coigione che ha parcheggiato la macchina così? Ah sei tu grandi amici Pierfrancesco. Dopodiché appunto andiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Loro sono la squadra di ciclismo? Sì. Ma loro stavano già qua prima del 24 febbraio? No, loro stavano in Turchia tramite l'associazione di ciclismo, sono stati portati qua perché in Ucraina non era più possibile di tornare. E te stai qua? Io sì, sono dall'Aquila. Chiami? Ti è Diego Piacere? È nata lì. Stai all'Aquila da quanto tempo? Da 95. Quindi ti sei fatta il terremoto? Ho fatto tutto, ho vissuto pienamente tutto quanto con voi, quindi ci sono anche tante persone in Ucraina che sono morti durante il terremoto. Una ragazza bellissima di 18 anni. E che sensazione hai in questi giorni tra guerra, anniversario, terremoto? Tu che l'hai vissuta? Cioè ho un cocktail in testa, un cocktail che non finisce più. Ciao Incianzi. Ciao. Dopo due anni di pandemia siamo qua tutti quanti e con te grazie di essere qui come ogni anno a ricordare, a fare memoria, come diceva Antonietta Centrofanti, propulsiva, propositiva, positiva, affinché quelle lacrime di allora, dell'Aquila, di San Giovanni di Puglia, del Ponte Morandi, di Rigopiano, non debbano più essere piante. Si può e si deve arrivare prima. Il dolore sta dentro. Quello che è fuori è una forza enorme affinché nessun altro debba piangere, lacrime amare. Finiamo al monumento che l'altra volta avevamo visto prima dell'inaugurazione insieme. Sì, finiamo finalmente al Parco della Memoria. Anche l'Aquila ha la sua Ground Zero e per noi è un posto positivo di vita, perché chi non fa memoria non rispetta la vita. È un posto che deve essere vissuto da tutta la comunità aquilana e da chiunque arrivi all'Aquila. Non è un posto mio o dei familiari, è un posto di tutti da dove si parte per programmare un futuro migliore. Non è un posto, non è un posto. Non è un posto, non è un posto. Non è un posto, non è un posto. Non è un posto, non è un posto, non è un posto. 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 Non è un posto, non è un posto, non è un posto. Non è un posto, non è un posto, non è un posto. Scusate, non è un posto, non è un posto. Non è un posto, non è un posto. Non è un posto, non è un posto, non è un posto, non è un posto. Quello che trovo bellissimo è che proprio loro sono così ospitali a ricevere questi ragazzi ucraini, a dargli questa possibilità. Mi ha fatto molta impressione il professore dell'università che diceva che loro non si sono trasferiti qui, sono soltanto visitors, cioè sono ospiti, studenti ospiti. Non sono profughi o rifugiati che devono rimanere qui. Possono fare tutto quello che vogliono qui, però non sono legati, sono come se facessero uno scambio. Questo è stato un gesto generosissimo e bello, proprio in questi giorni in cui loro si devono ricordare di tutta la pesantezza della situazione dell'Aquila, danno un aiuto con un grande cuore ai ucraini. Grazie Costanza. Paolo? Senti, il filo dell'importanza appunto di ricordare e di ricordare in modo preciso, quindi da quello che abbiamo visto da Francesca dell'Ucraina, Ilaria e adesso l'Aquila. Tra l'altro in alcune testimonianze, quelle di Sabrina, quando lei raccontava quello che le dicevano di quello che è successo a Bocia, a Irpin, erano le stesse parole delle testimonianze di Francesca e che raccontava Francesca, cioè quanto appunto è importante avere quelle testimonianze e quanto tutto torna, quindi attenzione poi a dare valutazioni, mistificazioni, propaganda da una parte dall'altra, quelle testimonianze sono autentiche, sono di quelli che stanno lì, che hanno visto, che pagano sulla loro pelle, cioè inequivocabile. Quindi quella roba lì quanto è importante e quanto è importante ricordare, quanto è importante essere tornati in piazza, quell'urlo di dolore di quella mamma, immagino di uno studente, un ragazzo, e quello mi ha colpito tantissimo, Diego. Io non so, insomma, rivedi o vedi, ti identifichi, vedi facce che ti sembrano quelle della tua famiglia, dei tuoi parenti, dei tuoi genitori, di chi vuoi bene, dei tuoi figli, in quelle fotografie di chi non c'è più. E quindi è stato straziante, ma importantissimo, è importante ricordare quello che è successo. Grazie Paolo. Francesca? Guarda, in due parole, sì, la memoria, come è bene ricordare quel dolore che ha vissuto l'Aquila, che ha vissuto l'Italia, e questa città che apre le porte a chi sta vivendo un dolore simile. Mi ha molto colpito questi studenti, che sia il primo che ha intervistato all'università, che Sabrina, parlano di senso di colpa, il senso di colpa di chi si è salvato, di chi è al sicuro, il senso di colpa verso le famiglie che sono ancora là, ancora in Ucraina, ancora a rischio. Meno male che ci sono tante città come l'Aquila, come abbiamo fatto vedere oggi, come Parma l'altra volta, come di YouTube, come tantissime altre città che stanno facendo tutto questo, sperando che presto anche le loro famiglie possano essere al sicuro e Sabrina non debba più avere la sirena sull'app del telefono. Grazie, grazie, Marco. L'accoglienza è un punto molto importante di tutta la crisi o la guerra, sia per quello che riguarda l'Europa, la Polonia che tu hai raccontato, che sbarrava le frontiere rispetto alla Bielorussia, oggi accoglie milioni di profughi dall'Ucraina e l'Italia sta dando su questo una prova all'altezza della situazione. A me veniva in mente come una parola che unisce due situazioni così diverse come quella dell'Aquila e di tante città che abbiamo visto, la parola comunità. perché l'Aquila in questi 13 anni è una sintesi di tante sciagure italiane, quelli che ridevano quella notte, che noi non dobbiamo mai dimenticare, quelli che ridevano, perché la ricostruzione era una grande torta, poi le manifestazioni di protesta, ma anche la dignità e l'orgoglio di una comunità che non dimentica che continua il 6 aprile a quell'ora a ricordare i suoi morti e questa comunità dell'Ucraina che è sottoposta a una prova tragica, drammatica e che si ritrova in una comunità nazionale e anche Sabrina, in fondo ne è la testimonianza, con la sua famiglia che diventa quasi una famiglia di carattere privato che diventa un volto collettivo. Una comunità come quella dell'Aquila ha le risorse interne per accogliere perché accoglie un'altra comunità e si riconosce in una comune umanità è ferita. Grazie Marco. Filippo, ho pensato a un rovesciamento, cioè la forza della debolezza, nel senso che gli eventi che poi fanno la storia e che fanno comunità sono proprio quelli in cui l'umanità si scopre debole, fragile e che ha la forza di rinascere dalle macerie e di esprimere la generosità, una generosità che viene dal basso. Questo è una lezione. Grazie Filippo.